Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Nella lezione di oggi vedremo un argomento molto interessante ovvero come modificare il volume di una clip audio utilizzando i keyframe Allora c'è da dire che si può modificare l'audio, il volume di una traccia o di una clip audio in Premiere in diversi modi Si può utilizzare ovviamente il mixer di Premiere, lo vedremo un po' più avanti Si può utilizzare il gain come abbiamo visto qualche lezione fa premendo il tasto G Selezionando ovviamente la traccia su cui si vuole agire premendo il tasto G e modificando il gain Ma si possono utilizzare anche i keyframe Perché utilizzare i keyframe? Perché se vogliamo fare una transizione tra un momento della nostra clip audio che ha una potenza maggiore E un momento della nostra clip audio che ha una potenza minore Il modo forse più semplice, veloce e preciso è appunto passare attraverso i keyframe Ne parleremo tra poco Prima però vi ricordo ovviamente come sempre il mio sito internet www.fabioambrosi.it Sito dove troverete, ormai lo dico sempre, non ce la faccio più, l'elenco di tutti i video tutorial fatti fino ad oggi Ovviamente riguardanti questo corso, il corso introduttivo ad Adobe Premiere Pro Ma vi informo che nei prossimi mesi, autunno e inverno, più in là Ecco, quando avremo terminato almeno questo corso Inizieranno anche altri tutorial riguardanti altri software Adobe Come After Effects, Audition e perché no, magari qualcosina anche di Photoshop Se vi fa piacere ovviamente iscrivetevi anche a questo canale YouTube Per non perdere i prossimi video E cercatemi su Facebook, c'è la pagina Fabio Ambrosi con tutti gli aggiornamenti e le attività che svolgeremo da qui In avanti Andiamo a bomba sui keyframe Innanzitutto, modificare il volume di una traccia audio attraverso i keyframe Perché è comodo Facciamo un esempio Allora, facciamo un esempio pratico Ipotizziamo che io abbia una situazione simile a questa Ok? Dove abbiamo due tracce, ok? Audio Una che è una musica E l'altra che è un mio voiceover, ok? Ma questo esempio può essere applicato chiaramente ad un'intervista Ipotizziamo che voi avete intervistato una personalità Volete mettere una musica che faccia in qualche modo da rafforzativo a quello che dice questa persona Ma quando parla questa persona ovviamente la musica deve essere un pochettino abbassata Per permetterci di capire quello che viene detto E quando non parla chiaramente la musica deve salire per rafforzare l'emotività della clip che stiamo creando Ecco, ci sono, dicevo, tanti modi per gestire e controllare i volumi in Adobe Premiere E anche per fare quello che sto facendo Che sto per fare Esistono diversi modi Oggi ve ne farò vedere due Prima senza i keyframe E poi con i keyframe Iniziamo a fare questa modifica senza keyframe Intanto la clip Ecco qua Quello che stiamo per vedere è un gioco Io lo chiamo così, via È un gioco che è una sfida se preferite Che un mio collega, un mio amico mi ha lanciato qualche settimana fa Chiedendomi di provare a realizzare del fuoco che usceva fuori dal dito di una persona Un po' l'effetto, no? Mi sembra che staglio d'olio facevano questa cosa tanti tanti anni fa Vabbè, comunque ho raccolto Cioè non ho raccolto questa sfida perché chiaramente il tempo è poco Però nei ritagli di tempo mi sono rimesso a giocare con un po' di grafica 3D Io non sono un grafico Però ecco, nei ritagli di tempo mi piace provare a fare quello che non so fare Magari per imparare E ridendo e scherzando è uscita fuori questa clip Che in qualche modo andrà a descrivere quello che è il brand del mio canale YouTube Ma anche del mio sito internet Quindi è questo per spiegarvi quello che state per vedere E chiaramente ho fatto uno speech veramente stupido di qualche secondo Per riempire e poi poter lavorare per farvi vedere quello che andremo a fare Ne approfitto per farvi vedere un'altra cosa Quando abbiamo parlato di come creare una sequenza in Adobe Premiere Abbiamo detto che una sequenza può essere creata cliccando con la combinazione di tasti Ctrl N C'è un tutorial passato andato a recuperare E c'è chiaramente la possibilità nelle impostazioni di personalizzare la sequenza O possiamo modificare una sequenza già esistente Selezionando la sequenza e andando nel menu sequenza Impostazioni sequenza e anche qui mettere personale nella modalità di montaggio E modificare poi le impostazioni come vogliamo Una dimostrazione pratica di quanto possa essere utile personalizzare una sequenza È questa Facebook ha delle dimensioni per le copertine Dimensioni ben precise Che sono sicuramente dimensioni non standard Non il classico 1920x1080 Non il classico 1280x720 Ma ha delle dimensioni proprie Allora io per far combaciare perfettamente il video che stavo realizzando Con le specifiche richieste da Facebook Ho modificato una sequenza Dando delle dimensioni personalizzate Ed ecco perché vedete questo frame così rettangolare Ovviamente questo non è un formato televisivo Non è un formato nemmeno da distribuire per esempio su YouTube Però ecco se il caso lo richiede In questo caso Facebook lo richiede Modifichiamo la nostra sequenza Modifichiamo le impostazioni E avremo questo video così allargato Ne approfitto per far vedere una cosa Chiaramente questo è il frame E il video che ho realizzato però ha le dimensioni standard 1920x1080 O no in questo caso era più piccolino Comunque un 16 noni tradizionale Se io avessi ingrandito questo frame Fino a far coprire l'intero fotogramma Chiaramente avrei dovuto ingrandirlo veramente troppo probabilmente Vediamo se riesco a farvelo vedere Avrei dovuto ovviamente ingrandirlo veramente tanto Andando a rovinare un video che già è stato fatto ad una qualità bassa E soprattutto andavo a tagliare qualcosa che io invece volevo far vedere Vedete questa parte qui viene completamente tagliata Quindi che cosa ho fatto sostanzialmente? Ho rimpicciolito il video Per farlo poi incorniciare da un'immagine che ho messo nella traccia sottostante Nella mia timeline E questo è il risultato Questa è una piccola parentesi per mostrarvi praticamente In che modo può essere utile personalizzare una sequenza Le dimensioni di una sequenza C'è uno dei primi tutorial fatti di questo corso Se siete nuovi in questo corso Partite dall'inizio Se non avete mai utilizzato Premiere Perché all'inizio di questo corso Spieghiamo tante cose Tante piccole regolette o funzioni Che possono sembrare inutili Possono sembrare anche superfile Ma poi vi torneranno sicuramente utili Quando meno ve lo aspettate Basta torniamo all'audio Questa è la clip Ve la faccio ascoltare a schermo intero Via Oh e questo è quanto Avete visto un piccolo slittamento nelle dimensioni Perché chiaramente io alla fine della clip Avevo la necessità di fare un taglio Quindi non avendo modificato adesso le dimensioni su entrambi questi segmenti Abbiamo una dimensione differente Facciamolo subito Copiamo tutte le impostazioni Movimento nel pannello controllo effetti Lo andiamo a copiare direttamente qui sopra E adesso non c'è più quel saltino che abbiamo visto Oh Dicevo io qui parlo Avevo messo in mute ma sostanzialmente dico questo Questo è il trailer del mio canale youtube E del mio sito internet www.fabiambrosi.it Ok niente di particolarmente interessante Diciamo subito Cosa vogliamo fare noi però? Vogliamo abbassare un po' la musica Mentre io parlo Per permettere a chi ascolta di sentire meglio quello che dico Ora in questo caso sì bisognerà abbassare di poco chiaramente Qui entra in gioco il vostro orecchio Un orecchio deve essere allenato Abituatevi ad ascoltare Ascoltate i film Ascoltate le trasmissioni televisive Imparate da chi fa questo chiaramente bene e di mestiere All'ascoltare intendo Per come fare a modificare il volume è presto fatto Noi abbiamo impostato un volume che all'inizio può andare bene Qui vogliamo abbassare Una tecnica tradizionale può essere quella di fare un taglio Ctrl K solo sull'audio Anche questa è una cosa che abbiamo visto già in tutorial passati Facciamo un altro taglio poco più avanti Questa clip la abbassiamo leggermente di volume Allarghiamo Ecco qui La abbassiamo leggermente di volume E le altre le lasciamo alla loro lunghezza originale Inseriamo due transizioni audio per ammorbidire Altrimenti ascoltate come verrebbe Questo è il trailer del mio canale youtube E del mio sito internet www.fabbiambrosi.it Ecco avete sentito che nel passaggio Tra un volume e l'altro C'è un salto Noi vogliamo ammorbidirlo Un modo per ammorbidirlo Come può essere applicare una transizione audio Olè E adesso chiaramente la transizione è molto più morbida Questo è il trailer del mio canale youtube E del mio sito internet www.fabbiambrosi.it Ok chiaramente poi vanno migliorate Vanno spostate un pochettino in avanti Allungate Qui dovete giocare voi Ad orecchio per rendere le transizioni giuste Dicevo questo è un modo per modificare i volumi Mentre si monta un video Ok però noi oggi vogliamo parlare Abbiamo detto Dei keyframe Perché sono utili keyframe Perché ci permettono di avere un controllo Molto maggiore Su come l'audio cambia di volume Da un momento all'altro Innanzitutto Dobbiamo assicurarci Di visualizzare Ecco questo forse non l'avevo ancora spiegato La linea al centro che vedete È un altro modo per modificare Il volume Chiaramente Della clip Abbiamo visto in passato Che è possibile modificare il guadagno Quindi si può Continuare a fare Lo che abbiamo fatto Attraverso questa finestrella Oppure si può utilizzare Questa linea al centro Più alta è Più il volume aumenta Vedete qui la scritta In basso Dei decibel Che vengono aggiunti E più è bassa E più i decibel Vengono sottratti Non è proprio la stessa cosa Di utilizzare questa finestra Infatti vedete Che non vengono applicati I cambiamenti significativi Ha a che fare con i mixer audio Ma lo vedremo più avanti Questa cosa Comunque sappiate Che questa linea serve Per alzare o abbassare Il volume Chiaramente noi Portiamo il volume Generale Al livello desiderato E adesso dobbiamo aggiungere I keyframe Assicuratevi innanzitutto Che cliccando su questo bottoncino Qui sia spuntata La voce Fotogrammi Chiave Clip Perché con questa voce Spuntata Accesa Potremo vedere I fotogrammi Che andremo ad inserire Da adesso in poi Abbiamo già visto In passato Come inserire fotogrammi In un elemento Di Adobe Premiere Lo abbiamo visto Quando abbiamo parlato Degli effetti video Bene Il meccanismo È esattamente lo stesso Lo dico Per chi non avesse visto Quel tutorial Un fotogramma chiave Non è altro che un fotogramma Come dice la parola Appunto chiave Quindi Con una responsabilità Maggiore Se volete Rispetto agli altri Che ha delle informazioni Importanti Di cui Premiere Deve tenere conto In altre parole Noi diremo Premiere In questo punto In questo punto della timeline Il volume Dovrà essere a questo livello A questo punto della timeline Il volume deve essere Ad un livello più basso E quello che c'è in mezzo Gestiscilo tu In altre parole Fa tu la transizione Questi sono i keyframe In generale Nello specifico È traslato Il concetto È esattamente lo stesso Andremo ad inserire Due fotogrammi chiave Uno qui E uno poco più avanti E Premiere Farà la transizione Dei valori Del volume Dall'uno all'altro Per inserire un fotogramma chiave Come potete vedere Qui sulla traccia Alla sin Sul menu Come chiamarlo Sul cruscotto Sul cruscotto Alla sinistra della traccia Trovate diversi 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 pulsanti Diverse informazioni C'è questo diamantino Se ci passate sopra Con il mouse Leggete Aggiungi Fotogramma chiave È esattamente Quello che vogliamo fare Quindi ho selezionato La clip Inserito Il volume Desiderato Posizionato Il cursore Nel punto In cui voglio Inserire Il fotogramma chiave Clicco Sulla voce Inserisci Fotogramma chiave Aggiungi Fotogramma chiave E come potete vedere È stato aggiunto Un fotogramma chiave Ingrandisco Così che sia Visibile Anche A chi È Su youtube Eccolo qua Questo è il fotogramma chiave Che ha la forma Di un Di un diamantino Ok Mi porto Leggermente in avanti Questo è Ecco Qui per esempio Voglio che il volume Sia più basso Prima ancora di modificare Però Il volume Della clip Aggiungo un secondo diamantino Adesso Trascinando Questo secondo diamantino Più in basso E perché no Se tenete premuto Il tasto shift Della tastiera Lo fate Perfettamente In verticale Sul punto in cui Vi trovate Altrimenti Se non tenete premuto shift Potete posizionarlo Dove volete Andiamo a dare Un gain Di meno 8 Meno 9 Via Ok E premiere Sostanzialmente Farà questa transizione Dal valore Di questo Di questo Keyframe Che era 3 decibel E 27 Più 3 decibel E 27 Di gain Rispetto allo Zero Non assoluto Ma Al gain Zero Ricordiamo Che quando Non viene applicato Un aumento O una diminuzione Di volume Quindi in questo caso Stiamo aumentando La clip Di 3 decibel E la portiamo A meno 9 E 38 Che ribadisco Non è il volume Generale Della Della clip Ma è di quanto Noi stiamo abbassando Il gain Il volume Della clip audio In questo punto Quindi da Averla aumentata Di più 3 decibel Andiamo Ad abbassare Fino a meno 9 decibel Rispetto al livello Di default E questo è quello Che sostanzialmente Accade E' O se Questo è il trailer Vedete che la musica Viene abbassata Ve lo faccio risentire Questo è il trailer Ecco qua Questi sono i keyframe Ora ovviamente Noi andremo a fare Per completezza La stessa cosa Anche più avanti Chiaramente Noi vogliamo Che da questo punto A questo punto L'audio Resti Allo stesso volume Quindi senza Modificare niente Inseriamo un altro Keyframe Eccolo qui E senza Modificare nulla Andiamo un pochettino Avanti Inseriamo Un quarto Keyframe Rialziamo Il volume Ed ecco Che l'audio Torna Ad un volume Di circa Più 3 decibel Ok Perfetto E questo è quello Che abbiamo ottenuto Riguardiamo Questo è il trailer Che chiaramente Che chiaramente La transizione Che viene fatta Da questi piccoli Oggettini È una transizione Lineare Vedete Da questo valore All'improvviso La curva Si impenna E sale Fino al valore Successivo Bene La buona notizia Che volete Che volete Il keyframe Faccia Di default È lineare Ma guardate Se io metto Curva Bezier Guardate come Cambia La curva Tolgo La selezione Così si vede Meglio Vedete che c'è Una sorta Di flessione Più morbida La aumentiamo Con questa maniglia Guardate Vedete Sto modificando Il modo Con cui Il nostro Keyframe Fa la transizione Non è più Una curva netta In questo caso È una cosa Che non ha molto senso Perché qui Il volume Si abbassa All'improvviso Sale Leggermente E poi Con una curva Molto lenta Si riabbassa Consiglio Però di utilizzare Per esempio La curva Di Bezier Automatica Che è sicuramente Molto Molto Più Più Gestibile Ecco qua Vedete Allungandola Abbiamo una curva Di transizione Sicuramente Migliore Possiamo Scegliere Anche Di Far fare Tutto a Premiere Quindi Di dare Un'uscita Graduale Un'ingresso Graduale Vedete che Qui Non era molto Graduale Però si può Migliorare Con queste piccole Maniglie Abbiamo un ingresso Manuale Abbiamo un ingresso Più graduale Verso questo frame Quando Si apre Per a Premiere Ma anche per After Effects Vale questa regola Quando si parla Di ingresso E di uscita Rispetto ad un Keyframe Dovete ricordarvi Sempre che L'ingresso Non vuol dire Inizio E l'uscita Non vuol dire Fine Ingresso Graduale Vuol dire Che L'ingresso Verso Questo Keyframe È Graduale Quando si parla Invece Di uscita Graduale Si intende Che l'uscita Da questo Keyframe È Graduale Questo perché A volte può Confondere La parola Ingresso Uscita Uno può Pensare Che riguarda I fotogrammi Che stanno Avanti O i fotogrammi Che stanno Indietro Questi Sono i Keyframe Per quanto Riguarda I volumi Audio In Adobe Premiere Pro Quale Tecnica Utilizzare Vi dico La sincera Verità Io Al 90% Delle volte Utilizzo La tecnica Che vi ho Fatto Vedere All'inizio Ovvero Faccio Un taglio E poi Inserisco Una transizione Audio È sbagliato No È una questione Di abitudini Probabilmente I keyframe Hanno il grande Vantaggio Di essere Poi memorizzati E trasportati Anche in altri Software Come può essere Per esempio Audition Quando andremo Ad esportare L'audio Verso Audition Lo faremo In un prossimo Tutorial Vedrete come Audition Conserverà Le informazioni Dei keyframe Che abbiamo Imposato In Premiere Audition Conserverà Per dirla tutta Anche le informazioni Di queste Transizioni Audio Perché Essendo un software Adobe Non ha grandi difficoltà A leggere La timeline Di Premiere Grazie Soprattutto Alle ultime Modifiche Fatte Nelle ultime Release Quindi Sostanzialmente Utilizzare I keyframe Utilizzare Le classiche Transizioni È una scelta Che sta A voi Come vi Trovate Più comodi Comodi Le transizioni Probabilmente Hanno il vantaggio Di avere I tasti di scelta Rapida CTRL SHIFT D Per essere Inserite I keyframe Richiedono Un po' più Di click Con il mouse Però I keyframe Permettono Un controllo Maggiore Del modo In cui L'audio Viene Aumentato Diminuito Di volume Le dissolvenze No Sono quelle Quindi non potete Fare questi giochini Con le curve Che abbiamo visto Fare con i keyframe Quindi Quale tecnica Utilizzare Sta unicamente A voi Alla vostra Necessità E al vostro Modo Di lavorare Nel prossimo Capitolo Parleremo Di una cosa Molto bella Parleremo Di come Utilizzare Questo Ve lo faccio Vedere In anteprima Che è Il Pannello Audio Essentials Viene chiamato In inglese Noi lo chiamiamo Pannello audio Essenziale E' un pannello Molto bello Che ci permette Sostanzialmente Di fare Quello che abbiamo Fatto oggi Vale a dire Inserire I keyframe I fotogrammi Chiave In maniera Automatica Perché si Nelle ultime versioni Di premiere Quello che abbiamo fatto Oggi Con i click Del mouse Premiere Lo può fare Su una timeline Di 5 ore Completamente In automatico Io vi ricordo Che L'automatismo È bello Ma Va controllato Quindi Vi farò vedere Come si fa Poi chiaramente Sta a voi Scegliere Se utilizzare L'automatismo Oppure no Dipende Dalle situazioni Per il momento Vi ringrazio www.fabbiambrosi.it Trovate L'articolo Di questa lezione Trovate Sintetizzati I concetti Che abbiamo Espresso In questi Minuti Vi invito Se vi fa piacere Ad iscrivervi A questo canale Youtube Siamo già tanti Siamo oltre mille Vi ringrazio Anche per i bei messaggi Che mi inviate Prossimamente Quando arriveremo Ad un numero Un po' più alto Almeno 3-4 mila Persone iscritte Al canale Faremo anche Delle lezioni live Perché sarebbe bello Poter confrontarci In tempo reale E anche bello Darvi la possibilità Di fare domande In tempo reale Perché sto registrando Questo video E non so Chiaramente Se mi sono spiegato bene O se ho Tralasciato Qualche cosa Che magari Per qualcuno È importante Quindi Quando questo canale Avrà molti più iscritti Programmeremo Anche qualche Videotutorial Live Di un paio di ore Magari di sera Magari In un giorno Infrasettimanale O che Vedremo Decideremo più avanti Fabio Ambrosi Cercatemi su Facebook Mettete like Grazie Basta così Al prossimo tutorial Ciao